La scrittura egiziana è la cosa che mi ha fatto innamorare dell'Egitto. Io mi innamorai dell'Egitto grazie ai geroglifici e la prima volta che notai che due iscrizioni geroglifiche contenevano dei geroglifici simili, ma che erano stati tradotti in modo diverso, da lì cominciai a innamorarmi per l'Egitto. Io ho scelto Argenta perché la proposta che mi è stata fatta dalla signora Bolognesi Benedetta l'ho ritenuta interessante e ho visto questo entusiasmo nella sua richiesta, ho visto questo grande entusiasmo e ho proprio voluto soddisfare questa cosa. Sì, 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 dell'affluenza e anche del numero di domande poste, perché in genere quando finisce una conferenza in genere uno non vede l'ora di andare via, sì, interessante, è finita lì, però qui mi sono state poste proprio tante domande e questo mi ha fatto molto, molto piacere.